Alba cominciano i preparativi per il momento più atteso della cerimonia. Gesti antichissimi che si tramandano da millenni in ogni villaggio Masai raccontano la continuità e la forza della tradizione che resiste ostinatamente al nuovo che avanza. Con l'arco e una freccia dalla punta smussata, un anziano pastore preleva il sangue della giugolare di un bue senza ucciderlo, come accade nei periodi di forte carestia, quando l'unica risorsa per sopravvivere per un pastore Masai è bere il sangue fresco delle sue mucche. Ma oggi bere il sangue è un significato speciale che sancisce la solennità del rito di pastaggio che si sta per celebrare. Ecco, il momento tanto atteso è arrivato. I guerrieri salutano simbolicamente i quattro angoli del villaggio. Il canto di addio precede l'attimo in cui a ognuno di questi ragazzi verranno tagliati lunghi capelli, segno della loro condizione di guerriera. Grazie. 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 Grazie.